Lui e lei ha letto, a un certo punto lei fa tiralo fuori che ti faccio una pippa dice pippa, con quelle mani che daranno da mangiare ai nostri figli ma non ti avergogni parlare così vabbè tiralo fuori, dai ti faccio un pompino dice pompino, ma che parole dici con quella bocca che insegneranno a parlare ai nostri figli capito, pippa no, pompino no però mo levi dal culo, me sta a far male dalla madonna